A Favara, come nel resto d'Italia, tanta era l'attesa ieri per la partita d'esordio della squadra campione del mondo in carica. Dopo essere state avvolte e riposte negli armadi per quattro lunghi anni, le bandiere tricolore tornano a fare capolino nei balconi delle abitazioni, molti o locali pubblici che trasmettono la partita all'aperto. Tanti anche i ragazzi, che sicuro dell'esito positivo della gara, preparano il loro scooter per il carusello, che ritualmente si svolge al termine di una partita vinda del Mondiale. Noi, 60 minuti prima del fischio d'inizio d'Italia-Paraguay, abbiamo voluto fare un giro per le strade cittadine per chiedere ai favaresi un pronostico sul risultato finale della prima gara degli azzurri e su come gli stessi si stavano organizzando per vederla. Tutte le persone intervistate erano abbastanza fiduciose sulla vittoria degli undici di Lippi sul Paraguay. Vinciamo, vinciamo, vinciamo. 4-0. Sulla formazione ci sono tanti problemi, ma secondo lei come andrà? Speriamo che stasera si vince, 2-0 magari. Quali attaccanti vorrebbe vedere in campo? Girardino, diciamo. Speriamo che faccia un gol. 1-0. Gole di... Come si chiama? Girardino. Sono molto emozionato per questa partita perché è l'inizio, quindi è meglio vincere ora e qualificarci e arrivare fino in finale. Come ti stai preparando alla partita? Sono con mia cugina oggi, questa sera ci andiamo a vedere la partita con i miei genitori lì. In caso di vittoria andiamo a festeggiare. Con il trascorrere del tempo e con l'avvicinarsi dell'inizio della partita, la città era in fermento. Intenso il traffico veicolare a causa della voglia di tutti gli automobilisti di arrivare puntuali davanti allo schermo al momento dell'esecuzione dell'inno di Mameli. Momento quest'ultimo che rende deserte le vie cittadine, da cui si sente solo dai televisori delle abitazioni, la voce del telecronista che commenta la partita. Ma adesso cerchiamo di fare la cronaca della partita. L'avevamo lasciata così la nazionale di calcio italiana nella notte gloriosa di Berlino del 2006. Queste invece sono le immagini del fine gara dell'esordio degli azzurri di ieri a Città del Capo e Mondial del Sudafrica. Finisce 1-1 la partita contro il Paraguay. Buono l'avvio dei ragazzi di Marcello Lippi, che prendono in mano le redine del gioco. Gli azzurri giocano bene e rimangono prevalentemente nella metà di campo avversaria. I biancorossi sudamericani difendono a denti stretti la manola dell'Italia, che però non riesce a finalizzare le azioni di gioco. Un solo tiro, blando di Montolivo, è stato l'unico pericolo corso dal portiere paraguaiano Villar nel corso del primo tempo. Bravi invece i sudamericani a sfruttare la situazione nell'unica volta che gli stessi giocatori hanno varcato la linea di centrocampo. Si mette male per gli azzurri che, rientro dagli spogliatoi per il secondo tempo, non solo devono compiere un maggiore sforzo per cercare di rimontare il gol di Alcazar, ma devono rinunciare all'estremo difonzore Buffon che non si presenta sul terreno di gioco a causa di un fastidio alla schiena avvertito durante il riscaldamento pre-partita e che forse, a causa della gerita temperatura di Cape Town e dell'incessante pioggia che ha accompagnato la gara, ha consigliato allo staff medico e allo stesso Buffon di non mettere a rischio il proseguo del Mondiale. Al suo posto entra il giovane portiere Marchetti. Ad inizio ripresa la musica non cambia, almeno fino al cinquantasesimo minuto, quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Pepe, è stato bravo De Rossi scivolata a deviare in rete la palla del pareggio. Anche se è da considerare la scivolosità del green causata dalla pioggia e che penalizza notevolmente il gioco tecnico degli azzurri, le conclusioni verso la porta di Villar continuano a mancare. La partita si concluderà poi senza nessuna emozione. Complessivamente la squadra italiana ha dimostrato una buona condizione atletica ma una scarsa incisività offensiva. Nonostante tutto il pareggio, viste come si erano messe le cose nel primo tempo, non è stato sicuramente un risultato da buttare. Adesso si spera in una vittoria degli azzurri domenica prossima a Nespruit, dove dovranno incontrare la Nuova Zelanda, nella seconda gara del girone F. Quest'ultimo intanto oggi vede in campo Nuova Zelanda-Slovacchia a completamento della prima giornata. Comunque nonostante i campionati del mondo di calcio e di senso di un one nazionale rappresentato dalla maglia azzurra, riescono ad appassionare anche le persone che normalmente non seguono il calcio. C'è anche chi ieri da nostri microfoni ha confessato di non essere attratto minimamente dall'attesissimo torneo. A me non mi interessa perché io ti porto il pallone di giro. Per l'Italia? Per l'Italia c'è mio figlio, io no. Io non giovelo per l'Italia. Non perché mi piace, perché il pallone mi dà energia.